Cosa significa essere un giurato? Eh! È bellissimo vedere molti documentari o niente dall'Europa e confrontarsi. La sensazione è piacevole di vedere un sacco di ragazzi che si stanno riavvicinando al cinema. Lo felicissimo è anche osa. Ci sono tantissimi titoli interessanti. Cominciamo! La maglietta. Sono contento che cominciamo. Ora sono pronto. Sono un eroe. Dentro nel cuore e nello spirito. Mi piace molto guardare i costometraggi e i film. La sensazione è di soddisfazione piena. Devo dire che mi emoziono anche ad essere ripreso in questa maniera. Abbiamo alla mia destra, una delle mie sale preferite, la Sala Drugo. No, non sono fanno parte dello stato. Salve, buonasera. Benvenuti nella Sala Drugo. Benvenuti nella Sala Drugo. Dele comode sedute. Abbiamo alla nostra destra e alla nostra sinistra degli schermi verticali, perché poi questi schermi saranno verticali, poi saranno orizzontali, poi un'altra volta verticali. Grazie di essere venuti questa sera. Siamo nel camerino del Cinemateatro Diana. Se volete un po' di lacca ve la do. Eroica, linea d'Umbra Festival. Io e la mia ragazza, Lucia, ascoltiamo sempre parole note. Com'è andata? Malissimo. Malissimo. Lucia, mangi a San Sapo. Taglia. Tanto non usare niente di tutto quello che hai detto. No, io uso il social media, io non c'è il social media, quando è vero è di più.